Il gol di Dia ha spento per un attimo i sogni di festa dei tifosi del Napoli. Pareggio clamoroso al Maradona, Napoli-Salernitana 1-1 dopo il vantaggio nel secondo tempo e dopo un primo tempo da 80% di possesso palla col 90% di precisione contro comunque un'ottima Salernitana ben allenata, anzi benissimo, da Paolo Sousa che è stata compatta, precisa e non ha lasciato il campo al Napoli, il gioco al Napoli in maniera scriteriata ed infatti il Napoli, nonostante i tanti diri e le occasioni, ha fatto grande fatica a segnare. Poi è arrivato questo bellissimo gol dell'attaccante Salernitano che ha zittito il Maradona e con il pareggio, nonostante la sconfitta della Lazio che era necessaria o comunque la non vittoria della Lazio per poter festeggiare lo scudetto per la prima volta con sei giornate d'anticipo, non era mai successo e non è successo questa domenica 30 aprile appunto il pari rimanda tutto ma manca un solo punto. In realtà la festa a Napoli è comunque iniziata, anzi era iniziata prima ancora della partita della Lazio ed è proseguita anche se ovviamente in maniera più blanda ma è giusto così, manca un solo punto, ormai la certezza è stata acquisita lo stesso Spalletti ha parlato di una dilazione, ecco, del godimento che non fa che accrescerlo quindi è un Napoli sostanzialmente campione d'Italia e in questa domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio entrambi i festivi c'è da festeggiare, c'è da celebrare, c'è da essere gioiosi, contenti e carichi di entusiasmo anticipando di qualche giorno una festa che non fa appunto che prolungarsi si deciderà tutto forse già mercoledì perché dipende dalla Lazio l'importante è che la Lazio non vinca per non mantenersi ancora grappata all'aritmetica scudetto oppure giovedì Udinese-Napoli e si sta già parlando di anticipo della partita di un paio d'ore dalle 20.45 alle 18 per cominciare prima l'eventuale festa scudetto ma non avrebbe neanche molto senso perché appunto la festa potrebbe iniziare già mercoledì sera, mercoledì notte in relazione al risultato della Lazio e fatemi dire tra parentesi mi dà un po' fastidio che molti tifosi della Juventus ieri abbiano sbeffeggiato il Napoli, i tifosi del Napoli ridacchiando perché avevano già apparecchiato tutto, avevano già preparato tutto per la festa ma adesso l'hanno dovuta rimandare cioè stiamo parlando di una squadra che ha stradominato il campionato che sta per vincere lo scudetto anche grazie alla Juve che le ha dato 6 punti perché la Juve ha perso due partite con il Napoli senza le quali con altrettante vittorie della Juve la distanza tra Juventus e Napoli sarebbe stata inferiore ai 9 punti sarebbe stata 7-8 punti grosso modo per cui i discorsi scudetto sarebbero apertissimi anche per la Juve e andarli a deridere perché meritano di vesteggiare dopo tanti anni dopo una cavalcata trionfale con uno scudetto vinto stradominando solo perché rinviano la festa di qualche giorno è veramente patetico, è veramente puerile, è veramente ridicolo ed è anche da perdenti significa non saper riconoscere i meriti dell'avversario dopo che per anni la Juventus ha vinto gli scudetti lamentandosi, molti tifosi, che gli avversari non riconoscevano i meriti della Juve ecco adesso si fa uguale a loro ma tralasciando questi discorsi volevo fare una piccolissima considerazione al di là di tutto quello che avete già visto, sentito e che si è letto, che si sta scrivendo per questo evento storico per il calcio italiano e per il calcio di Napoli e cioè che meglio così nel senso meglio non aver potuto festeggiare ieri ma non perché fosse sbagliato festeggiare con questo anticipo o comunque con questa tempistica ma semplicemente per le modalità con cui la festa è saltata e cioè per una distrazione per un errore tattico in difesa Osimen si fa saltare da dia e ci può anche stare ma Kvarraschelia è in ritardo un po' pigro in questo ripiegamento anzi resta sostanzialmente fermo non rincorre da dietro ma soprattutto Quan Jesus esce nettamente in ritardo concedendo all'avversario spazio per la giocata e per il tiro che poi il tiro sia stato un po' casuale il giocatore della salientana non ha neanche guardato la porta anzi ha guardato in area ha visto che non aveva la linea di passaggio ha detto adesso tiro e ha fatto un grandissimo gol è un altro discorso ma lì Quan Jesus deve uscire assolutamente prima e quindi errori individuali errori tattici di alcuni giocatori del Napoli che però ricadono sull'allenatore è chiaro che qui sia colpa di Spalletti e non lo neghiamo anzi il discorso è sempre quello se i giocatori eseguono male una tattica è sempre anche colpa dell'allenatore perché o non gliela ha spiegata bene o non gliela ha fatta eseguire bene oppure i giocatori hanno mollato e si sono distratti psicologicamente e anche in quel caso è colpa dell'allenatore che era in panchina e doveva tenerli attivi svegli e quindi questo è meglio perché porta il Napoli a riflettere su questo gol preso per molto tempo e con grande attenzione per migliorare e quindi è peggio per tutti gli altri perché se Spalletti sarà maniacale come lo è stato finora e se i giocatori lo seguiranno come l'hanno fatto finora questo gol subito che rimanda alla festa Scudetto servirà al Napoli per migliorare ancora dal punto di vista tecnico-tattico in funzione della prossima stagione dall'altra parte tra l'altro c'è una grandissima festa giustamente per la Salernitana ormai praticamente salva che con decine e decine di paesi collegati da tutto il mondo sulla diretta della partita ha visto la sua squadra anzi è riuscita a strappare quindi un pareggio insperato ha continuato con la striscia di risultati utili da imbattuta mostrando un ottimo gioco quindi dando grande sfoggio di sé poi parliamo tra l'altro di una rivalità Napoli-Salerno e quindi la Salernitana non ci stava a consegnare lo Scudetto al Napoli proprio contro di sé ed anzi è una grande festa anche per questo sgarbo però assolutamente sportivo e maturato sul campo con il merito con il gioco quindi tutti contenti i napoletani possono comunque festeggiare Spalletti può migliorare può lavorare insieme ai suoi giocatori la Salernitana ha preso una quasi vittoria e il calcio ringrazia buona festa aspettando l'aritmetica ma manca veramente pochissimo grazie a tutti